Quando parlavamo di questo studio che verrà presentato, quindi non vogliamo spoilerare niente, ma l'idea di investire su quella che è effettivamente una risorsa a tutti gli effetti per il nostro Paese, che viene vista da alcuni come un limite, da altri invece può essere studiato il modo per ottenere un certo tipo di integrazione passando proprio anche dal lavoro stesso. Questo è quello che chiamavamo ascensore sociale, noi a livello nazionale, quindi non lo dico io, lo dice la nostra Confederazione, costruendo anche dei progetti addirittura per fare formazione là, perché è evidente che sono e devono diventare una risorsa, quindi a partire da quelli che già ci sono e che quindi bene che li formiamo e li integriamo, perché se no la strada è tutta in salita e poi finiscono ovviamente in strade che non portano alla legalità e non portano all'occupazione, ma portano anche a permanere in un'illegalità che non porta a beneficio al Paese. E poi noi a livello nazionale stiamo proprio anche facendo dei ragionamenti per andare a, oggi abbiamo visto anche un protocollo, per andare anche direttamente là a fare la formazione, perché allora c'è anche tutta la parte che anche Matteo evidenziava di conoscenza del territorio, perché devi anche conoscere le regole del territorio in cui ti muovi.